L'Avezzano ha scelto Alessandro Delgrosso, sarà l'ex allenatore di Lanciano, Agnonese e Sora, a guidare la compagine marsicana nella prossima stagione, eccellenza o serie di che sia. Delgrosso torna nella squadra in cui ha militato, tre anni da calciatore, dal 93 al 96, e il presidente Gianni Paris spiega il perché di questa scelta. Alessandro ha un certo feeling con l'Avezzano Calcio, la scelta su Delgrosso è stata, ti dico la verità, una scelta molto facile. Non ho visto nessun altro allenatore se non l'idea che poteva ricadere sul rullo, che comunque era stato anche un ex giocatore, anche se per poco tempo. Però ecco, l'idea, l'attaccamento, la voglia di Alessandro Delgrosso hanno prevalso su tutto e tutti, e anche sul presidente, quindi ci siamo messi d'accordo a cena, quindi penso che questo sia l'emblema di tutto. Al pari del Chieti anche l'Avezzano, ieri ha inoltrato ricorso al collegio di garanzia dello sport del CONI, contro la delibera del Consiglio federale che ne ha sancito la retrocessione in eccellenza. Il presidente Paris confida in un buon esito della battaglia legale per mantenere la Serie D, ma comunque ha le idee chiare. Faremo una squadra per un campionato di media alta classifica, se pensiamo alla Serie D, e per un campionato a vincere, perché l'Avezzano in eccellenza non fa un campionato diverso nel massimo campionato regionale. Mi auguro sinceramente di fare riferimento ancora a Roma per la prossima stagione e quindi di disputare in maniera netta, forte e convinta anche le nostre ragioni dinanzi agli organi competenti sia della giustizia sportiva e se dovesse essere anche della giustizia ordinaria, perché credo che veramente quello che sosteniamo nel nostro ricorso sia meritevole di essere accolto e quindi all'Avezzano non può essere tolta questa piazza, non può essere tolta la Serie D.